Ma sta registrando? Sì Ok Bala ragazzi Oggi faremo il video di quanto fa con un litro di benzina Un 300 due tempi Dato che non ho visto video su youtube Deciso di farlo Dato che me lo avete chiesto anche in tanti in DM Ve lo porto Sarà compreso anche l'accensione, il riscaldamento e tutto Vediamo quanto facciamo È zerato il contachilometri Intanto accendo la moto E dato che non... Vi è più vicino? E dato che il mio contachilometri Non funziona Useremo il benz Qua sono stato un pezzo di merda Perché se avete notato io non ho voluto ammazzare uno solo Quando troviamo una strada abbastanza larga Vado in una strada là dietro Che mi stai anche di fianco a sinistra contro mano Che tanto non c'è nessuno Mi dispiace, non ci sto Aspetta che la scaldo due secondi Ufficialmente partiti Chiaramente farò tipo delle piccole tirate Un'andatura normale sotto coppia Tipo come sto facendo adesso Boh, secondo me non consuma troppo Quando sono sotto coppia E il più è quando apro Però che palle Con le macchine davanti Più ho un amico che mi deve stare dietro Che due palle Comunque premetto che tipo la strada di casa mia Da dove sono partito è lunga un chilometro Vabbè forse non c'entra un cazzo Non è che se ne frega Tanto tiene tutto hub Proviamo a fare anche qualche impennata Più che altro è che se la benzina Da qua mi va di là È un casino Non è più un litro Ho un piccolo problema Che il casco non mi sta giù È molto bello Quindi devo sempre tenere la testa giù così Con il fatto che c'è la GoPro Adesso proviamo ad andare in quella strada là Un po' più larga così A me non mi riesco a stare di fianco Facciamo giusto un impennatino Vediamo Giriamo Andiamo giù di là Prova a starmi di fianco In contromano Che faccio un'impennata Tu fai più o meno Anche i 60 su sta strada Tanto ti raggiungo Bene Ora Dato che qua non c'è più nessuno Vedrai ci possiamo girare Giro Vai 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 Ah deve venire Ma porca puttana Oh assurdo Come qualsiasi persona Questo deve entrare qua Ok andiamo adesso Da un'altra parte Perché qua non c'è più un cazzo Non sono capace Andiamo a fare una tiratina Allora calcolando che Non so quanto consumi sta moto Però con le impennate La benzina di sicuro Mi va di qua Cioè calcoliamo giusto Un giro classico Di uno che va Con una moto del genere Che impenna ogni tanto Adesso non è il mio caso Però sicuro la benzina Sarà anche di là Allora adesso Vorremmo andare sulla strada normale Dai non stiamo solo qua dietro Quindi Che alla targa Teniamo una velocità Sesta sotto coppia Sarà più o meno Secondo me sui 60-70 adesso O anche 80 Si sta già spegnendo Sono già rimasto a piedi Proprio qua In questa strada Sono un coglione Allora fa vedere Infatti della benzina è andata di là Ok non fa un cazzo Con un litro Minchia Aspetta Vieni vieni Ok Immaginavo Non devo più impennare Calma Il cazzo di problema È che la benzina fa di là Cioè alla fine Tipo sto serbatoio Conterrà 7 litri E ne uso sempre 5 Perché due Stanno sempre di qua Oh che cazzo ne so Cioè alla fine Fa che chiare sto serbatoio Come tutti i serbatoi fatti così Poi magari si In sto pezzettino Metto un timelapse Di prima quando non si spegne Eh ma come facciamo i chilometroni Controlliamo quanta ne ho Quanta Ce ne è ancora un po' Quanti chilometri c'ha? 12 ore Minchia buono cazzo Fermati alla fermata del bus Che Eh lo so Ho finito la benzina Faccio così per forza Aspetta Fammi controllare Ma no ma là ce n'è No no ma ce n'ho ce n'ho C'è dello sporco Non riesco a prendere questa Due palle Dammi la benza Che? Non mi hanno fermato Quanti chilometri ho fatto? Un po' Te li ricordi? Ce li hai precisi? Sì sì Quando ti sei Fin qua Ti ricordi quando ti sei fermato? Sì 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 E quant'era? No quando ero non ci ho guardato Vabbè togli i 500 metri Vabbè dopo lo diciamo Allora ragazzi Il betone Ha fatto La bellezza di Si è spento La bellezza di Mi ti richavi Eccola 16 16.1 Facciamo tipo Meno 500 metri 15 chilometri e mezzo Con un litro Direi che Fa più Della mia vecchia che io Il 300 Il 300 Il 300 Il 300 Grazie.